Shabbat scorso. Abbiamo finito il primo del cinque libri della Torah, Breshit, e ora iniziamo il secondo libro chiamato Shemot, Nomi. Come gli altri quattro libri, la prima parasha della Torah dà il nome all'intero secondo libro, il libro di Shemot. La parasha inizia ricordandoci i nomi dei figli di Israele che sono venuti in Egitto a causa delle carestie nella terra di Canaan. Israele è il patriarca Giacobbe che Dio stesso ha rinominato Israele. Molte cose accadono in questa parasha. Mosè nasce nell'anno 2368 dalla creazione, 1393 anni prima dell'era comune. Cresce nella casa del faraone e alla fine viene scelto da Dio per condurre al suo popolo gli schiavi ebrei fuori dall'Egitto. La discesa degli ebrei in Egitto in schiavitù li privò di ogni libertà ed essi furono oppressi da intenso lavoro che procurava sia afflizioni del corpo che della mente. Ma nonostante tutto questo, gli ebrei hanno mantenuto tre cose che hanno poi contribuito a portare alla loro redenzione. Hanno mantenuto i loro nomi ebraici, la lingua ebraica e il loro proprio modesto modo di vestire. Essendo che l'Egitto era il culmine della cultura in quel tempo, questa fu un'impresa straordinaria per gli ebrei. E 3300 anni dopo, il popolo ebraico continua a parlare in ebraico. Non c'è niente in più nella Torah e tutto contiene una lezione per noi nella vita quotidiana. La parola ebraica per l'Egitto è Mitzrayim. Mitzrayim condivide la sua radice con la parola Mitzarim, che significa limitazioni o barriere. A volte anche noi sentiamo di essere intrappolati dai nostri limiti personali. Prendendo un momento per pensare a ciò che è veramente importante per noi e concentrandoci su ciò che più identifica chi siamo, anche noi possiamo liberarci di ciò che ci limita. Per aiutarci a raggiungere questo, ecco alcune cose che la parola Mitzarim ci insegna che possiamo iniziare subito. 1. Mostra gratitudine 2. Sviluppa le nostre relazioni con gli altri 3. Riduci l'ansia vivendo il momento attuale, invece di preoccuparti di cosa potrebbe accadere in futuro. A volte ci sentiamo limitati da circostanze interne o anche esterne, ma concedendoci la possibilità di tornare a concentrarci ci darà sicuramente chiarezza e ci aiuterà a liberarci da cose che ci legano inutilmente. Grazie a tutti i nostri iscritti. Ti prego di lasciare commenti o domande e clicca mi piace. E' più importante se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale YouTube Jewish Venice e condividi i video così possiamo portarti nuovi video ogni settimana. Alla prossima, shabbat shalom a tutti e fai del tuo meglio oggi perché in cambio stai spendendo un giorno della tua vita.